Plastic Food Project era già presente nel territorio europeo per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti, quindi ho colto l'occasione, quando mi si è presentata, ero in Marocco per lavoro, per contattare Fatima Calaiati, che in pratica ha cercato per tutto quest'anno solare di mettere insieme il primo festival internazionale del Marocco dedicato alla riduzione della produzione dei rifiuti, oltre che al corretto riciclo dei rifiuti stessi. Credo che sia molto importante perché Plastic Food Project è già stato esposto per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti a Bruxelles, quindi per un importante evento, e poterlo portare anche in Marocco per aprire questo festival di fronte al Ministro per l'Ambiente del Marocco credo che sia una cosa importante perché collega direttamente quello che è l'azione europea per la riduzione dei rifiuti con l'azione extraeuropea, quindi è un segnale di apertura dell'Europa nei confronti di... Quali altri luoghi hanno visto, italiani e stranieri, l'esposizione di Plastic Food? Beh, Plastic Food è stata presentata per la prima volta ad Umbertide, poi al Museo Internazionale Luzzati di Genova, al Centro per l'Arte Contemporanea Pecci di Prato, nei vari capoluoghi di provincia come ad esempio Perugia nel Centro Storico in occasione di Fantasity, ed è costantemente invitato a diverse convention ed eventi dedicati all'eco green sostenibile. Ecco, qual è in una parola il significato di Plastic Food? Una balla di rifiuti che viene usata come un'opera d'arte? Sì, Plastic Food è un'installazione molto semplice perché riporta a chi produce rifiuti quello che ha prodotto, quindi noi siamo abituati a dire non vogliamo discariche, non vogliamo inceneritori, però alla fine siamo noi che produciamo questi rifiuti, quindi cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica in maniera molto semplice, in maniera diretta sulle problematiche inerenti proprio alla produzione dei rifiuti, quindi per me non è importante come poi dopo trattiamo i rifiuti, ma è importante la riduzione della produzione dei rifiuti, quindi attraverso buone pratiche quotidiane da parte di tutti, sia da chi produce, sia anche da chi consuma. Un'altra opera importante di Pozze che in questo momento va per la maggiore è Controcorrente, il pesce controcorrente. Che cos'è? Controcorrente nasce dall'esigenza mia personale dopo l'ultima installazione di Plastic Food che era dedicata all'usegetta, perché ho notato che il nostro usegetta quotidiano di ciò che compriamo alla fine si riverbera anche nei nostri rapporti sociali, quindi non è nient'altro che un dire che la famiglia quotidianamente va controcorrente rispetto agli stereotipi di massa che vengono comunicati alla stessa, quindi è un dire cerchiamo di stare uniti, cerchiamo di vivere all'interno del focolare familiare quelli che sono realmente i valori della famiglia e non questi stereotipi impazziti con i quali veniamo bombardati quotidianamente. Controcorrente è un pesce fatto di mattoni, mattoni colorati, come è mai questa scelta? È semplicissimo perché ogni famiglia in pratica è rappresentata da un mattone di colori diverso, quindi ogni mattone rappresenta una famiglia, il mattone rappresenta per la famiglia l'elemento base costruttivo della casa, quindi il nido dove poi la famiglia vive e quindi il risultato è stato metterli a forma di pesce per dire che cosa? Che come i cristiani vennero perseguitati ad opera dell'esercito romano in tempi passati, oggi la famiglia è perseguitata alla stessa maniera, quindi è un segnale molto forte per me questo. E ho utilizzato dei mattoni fatti nella ceramica Cer di Umbertide, ringrazio anzi il Cavalier Primo, perché mi ha dato la possibilità di dimostrare che noi abbiamo nel nostro territorio delle eccellenze, delle eccellenze produttive che non devono mai più copiare il Made in Cina ma proporre il Made in Italy in maniera fatta bene.